A breve il termovalorizzatore di Acerra bloccherà del tutto il suo lavoro di smaltimento dei rifiuti per la realizzazione di nuovi interventi già stabiliti da diversi mesi. Uno stop previsto e atteso che per circa 40 giorni provocherà l'impossibilità a smaltire attraverso il processo di incenerimento e successiva trasformazione in energia elettrica i rifiuti di tipo futa o comunque rifiuti che non possono essere riciclati. Lo stop era atteso da tempo e oggi siamo nella fase in cui si delvia la chiusura. In questi giorni il presidente della provincia Michele Estrianese in vista dello stop e per far fronte ad eventuali difficoltà dovute anche ad un sovraccarico di presenza di rifiuti presso lo stir di Battipaglia ha scritto una lettera ai sindaci per invitarli ad essere responsabili e ad adottare tutte le misure più significative per riuscire a ridurre al massimo il conferimento dei rifiuti presso lo stir in questo periodo di stop del termovalorizzatore vista l'impossibilità a procedere allo smaltimento. Nella lettera il presidente Estrianese annuncia anche la giudicazione della gara espletata da Ecoambiente Salerno per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di tipo futa ed FST ossia della frazione dell'indifferenziato. Due le gare espletate che risultano essere state assegnate in maniera tale da cercare di ridurre al massimo il disagio dovuto allo stop dell'inceneritore con probabile rischio di impossibilità di recupero dell'indifferenziato dai comuni a danno della salute e dell'igiene pubblica. Nonostante la giudicazione delle gare però dalla provincia arriva comunque l'invito ai sindaci ad attivarsi al fine di adottare le dovute precauzioni. Nella lettera si legge che in ottica di proficua collaborazione tra istituzioni si invita a voler ulteriormente sensibilizzare i cittadini a prestare la massima attenzione nell'effettuare una rigorosa differenziazione dei rifiuti onde limitare al massimo il rischio di criticità comunque correlate al fermo del termovalorizzatore. Grazie. Grazie.